Ciao a tutti, vi aspetto l'11 aprile al Novità Lounge di Rosseto in compagnia di Hard Times Sound Serata in collaborazione con Borderline Crudy Shop, Misty La Brom Earth, sicuramente vi aspetta, mi raccomando non mancate We play the reggae music, let's Con il mit dem planner e ringовой Cosa riuscille iid insights Ai, con i tre l'89 risotto Esca, 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 esca Ruluiamız No 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 Even And Grazie a tutti 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 Grazie a tutti